ciao bambini grandi e piccini bentornati sul mio canale oggi leggeremo una bellissima storia di un'autrice che conoscete già si chiama beatrice lemagna e la sua storia di oggi è un piccolo capolavoro si chiama il disastrosissimo disastro di harold schnipper pot edizioni topi pittori è un libro veramente emozionante e divertente e io direi proprio bando alle ciance raccontiamo ci sono giorni in cui va tutto storto giorni in cui sentiamo che sta per succedere qualcosa di grave e che dopo nulla sarà più come prima la mia storia inizia proprio in una giornata così eccomi una settimana prima del disastro io harold philip schnipper pot stavo per compiere sette anni e quello che volevo di più al mondo era una festa di compleanno una piccola festa come non avevo mai avuto e questo perché avevo genitori che appunto odiavano le feste quel tipo di genitori sempre di cattivo umore corrucciati allergici alle coccole alle risate non parliamo poi dei baci della buonanotte fantascienza pura ecco perché ad ogni mio compleanno non succedeva niente ma quell'anno ero davvero giù di ricorda così giù che non parlavo più tanto che i miei genitori si preoccuparono a tal punto che mia madre disse chiameremo il signor ponzio nel nostro quartiere tutti conoscono ponzio ponzio è un uomo buffo e come lavoro fa il risolutore di problemi che risolver sempre in modo alquanto originale non ho bambini da affittare per quella data ma le propongo un'altra idea spiego a mia madre si fidi signora schnipper pot sarà una festa memorabile ma harold ne sarà contento certo disse ponzio sarà indimenticabile e così i miei genitori accettarono il giorno della festa la nostra casa era un incanto ghirlande multicolori ornavano le pareti e un arcobaleno di palloncini incorniciava la porta d'ingresso quando suonarono alla porta corremmo ad aprire e lì wow rimanemmo di sale decine e decine di animali animali veri formavano un'immensa coda che dal fondo della strada arrivava fino alla nostra porta sbalorditivo in fila indiana gli animali ad uno ad uno entrarono in salotto all'inizio andò tutto bene i miei genitori sembravano persino godere dello spettacolo ma molto rapidamente le cose precipitarono gli animali iniziarono a comportarsi come animali i grandi marmiferi i grandi mammiferi ora l'ho capito sono degli arredatori nati non appena entrati si misero a spostare i mobili e aprirono tutti i cassetti per farli cadere meglio un orso polare sprofondò sul divano mentre un greggio di pecore ne masticava l'imbottitura supportato da tre maiali divoratori di cuscini la giraffa imbattutasi nel nostro lampadario ardeco un'eredità di famiglia si mise a sgranocchiare avidamente ogni goccia di cristallo a questo punto mio padre collassò al piano di sopra un elefante russava nel mio letto dopo aver polverizzato la mia nuova pista delle macchinine elettriche una confusione bestiale ma dov'era ponzio di certo non in cucina dove uno stormo di uccelli stava intonando una sinfonia per tazze e pregiati piatti cinesi una famiglia di tartarughe fece irruzione nella biblioteca di papà e si mise a ingurgitare la sua collezione di libri rari naturalmente l'ippopotamo galoppò verso il bagno e si tuffò nella vasca l'acqua traboccò dappertutto un alluvione a base di bolle di sapone che attirò altri animali il pavimento era una pista di pattinaggio gigante povera mamma aveva una faccia da far paura intanto nell'armadio di mia madre una foca monaca tre scimmie un armadillo e altri esemplari se la spassavano tra le sue gonne di tulle e le sue sciarpe di seta presso ridotte in brandelli con aria beata una capra indossava le sue scarpe più care un disastro disastroso disastrevole disastrosissimo la nostra casa era distrutta devastata completamente sottosopra e il pavimento del soggiorno era un tappeto di cacche variegate dal fetore pestilenziale per finire un gigantesco alligatore si parò davanti ai miei genitori a fauci spalancate davanti a quelle due file di denti scintillanti terrorizzati i miei si rifugiarono dentro a un vecchio baule sciaguratamente la serratura si chiuse di scatto facendoli prigionieri feci di tutto per liberarli impossibile a questo punto finalmente apparve ponzio bastone alla mano sconvolto da quella visione l'elefante fuggì verso l'uscita ebbi giusto il tempo di afferrarlo per le orecchie mentre tutti gli altri animali si misero a correre dietro di noi ed eccomi qua al galoppo per la città ingroppa un pachiderma inseguito da un intero zoo impazzito in sottofondo le urla stridule dei miei genitori da dentro a un baule infilzato dal corno di un rinoceronte terribile ma all'improvviso tutto mi apparve straordinariamente divertente una folla di persone si era riversata per strada aggiungendo un gran caos al trambusto gioioso in testa a quella parata allora ebbi un'idea io harold philip schnipperpot decisi di prendere le retini e dirigere il corteo verso la fontana del giardino centrale qui ogni animale si fermò a bere compreso il rinoceronte che finalmente lasciò cadere il baule che si aprì in due liberando i miei genitori che scena lì davanti a tutti mio padre e mia madre si avvolsero in un bacio un gigantesco bacio appassionato e appiccicoso proprio come quelli dei film di amore accesi da tanto romanticismo i camaleonti si vestirono dei loro colori più splendenti che riflettendosi nella fontana irradiarono l'intero parco allora frotte di bambini accorsero da tutte le parti per assistere allo spettacolo buon compleanno gridò papà buon compleanno ripeterono tutti i bambini alcuni scivolavano sul collo della giraffa altri galoppavano a dorso dell'alligatore mentre un piccolo gruppo pettinava il leone e di me che ne era mamma mi prese tra le braccia e mi fece roteare in aria ridevo a crepapelle era questa finalmente la mia prima festa di compleanno la più disastrosa e meravigliosa del mondo da quel giorno i miei genitori ed io muggiamo e ruggiamo beliamo ed abbagliamo spesso apriamo le bocche in fragorosi per ridere e prima di dirci qualcosa di importante ci annusiamo con attenzione è divertente ha osservato mia madre come gli animali ci hanno insegnato ad essere più umani il signor ponzi ora è diventato nostro amico ha riparato un sacco di cose incluse la mia pista delle macchinine ama giocarci ma soprattutto vincere come noi bambini ora avete capito dove volevo arrivare le catastrofi possono avere conseguenze straordinarie ma la cosa davvero più straordinaria di questo disastro sono loro i miei nuovi deliziosi baci della buona notte fine accipicchia che giornata memorabile per farlo snipper pot sapete un mio amico tantissimo tempo fa ha detto che l'imprevisto è la sola speranza ma che significa è una parola stranissima non è vero significa che alle volte ci sembra che tutto vada storto e che niente va per il verso giusto ma accade qualcosa che non avevamo previsto che non sapevamo che sarebbe accaduta è che cambia tutto e ridona colore a tutto quanto ecco come per esempio quando siamo tristi oppure arrabbiati allora viene una persona che ci vuole molto bene ci dà un bacetto così di improvviso e noi ci rendiamo conto che tutto ciò che ci rendeva triste in realtà non è niente in confronto a quel bacetto che ci dimostra invece tanto amore e tutto cambia vedete bambini anche i disastri sono portatori di cose buone e nulla proprio nulla è perduto nella vita piccoli amici miei allora io sono sicura che questa storia è piaciuta tantissimo anche a voi e spero e sono sicura anche che ci rivedremo settimana prossima per una fantastica nuova storia ciao